Un provvedimento molto importante, nato per coniugare esigenze delle famiglie abruzzese, delle imprese, dei comuni, delle associazioni sportive. È nato dall'esigenza anche di aspettare il famoso decreto Italia emanato dal governo per cercare di non sovrapporre le nostre proposte. È un provvedimento che cuba circa 55-60 milioni di euro. La parte preponderante è destinata al contributo a fondo perduto per quanto riguarda le attività turistiche, le attività commerciali che ovviamente hanno patito e sono rimaste chiuse nel periodo del Covid-19. Prevede anche un'azione, una misura di 1.700.000 euro per le zone rosse. È un provvedimento importante, atteso dai comuni del Terramano, del Pescarese e anche del Chietino. Le zone rosse sono state completamente dimenticate da parte del governo Conte. Poi abbiamo previsto uno stanziamento di circa 3 milioni per quanto riguarda il mondo delle associazioni sportive, e il mondo culturale, oltre a un milione e due circa per il sisma bonus per tutto l'apparato delle ATER. Quindi è una legge che va ad incrociare anche i desiderati degli studenti. Abbiamo previsto anche un bonus per gli assili nido da 0 a 6 anni e per gli studenti che studiano fuori dalla propria residenza, sia in Abruzzo ma che anche fuori dai perimetri regionali. Quindi è una legge importante, penso una delle leggi più importanti da quando è stata istituita la interregione e un'azione che ovviamente costa molto alla regione, che ha dovuto rimodulare sia le economie di bilancio ma anche i fondi europei. Speriamo che una volta approvata questa norma possa camminare veloce, così come abbiamo fatto per il bando per le famiglie in difficoltà. Anzi, non dimenticavo di dire che prevediamo ulteriori 7 milioni per quanto riguarda il bando delle famiglie in stato di bisogno, quindi si vanno a sommare 5 milioni già stanziati, quindi è una legge quadro importante per la regione Abruzzo, una legge quadro importante per le aziende, per i cittadini, per i enti e quindi speriamo che questa norma unitamente alle norme nazionali possa far rivedere una luce in fondo al tunnel al sistema economico finanziario del nostro territorio e di tutto il territorio nazionale.